Allora pronti per la rimessa i ragazzi dell'Enoteca Tut con Emili per Kovacevic. Viene incontro Custodio, il tocco che riesce, si chiude l'1-2, Kovacevic a tu per tu con Bettoso, siede il portiere, il pallonetto Kovacevic. Soluzione di prestigio di Davide Kovacevic, 8 eventi sul cronometro, bellissimo l'1-2 con Custodio che allunga la punta e lancia in profondità l'11 che poi finta, controfinta, controfinta ancora e con Bettoso a terra con un morbidissimo scavetto porta in vantaggio i suoi, 1-0.